speriamo non ci sia anche una terza non credo ecco 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 ma non c'è il trattore ai 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 ti mandano tutti l'acqua no no prima di che? la casa di qualcuno che è recintato? no no cioè io ho capito è per abitare la galleria si è non 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 Grazie a tutti. 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 No... 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 Grazie. 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 Grazie.